Personalità, allora, Orietta e De' Enrica, cosa ci cantano come prima esibizione? Quando l'amore diventa poesia, è il nostro concerto. Due canzoni meravigliose, Quando l'amore diventa poesia è un grande successo proprio di Orietta Berti, il nostro concerto è una grande canzone del grandissimo, ineguagliabile Umberto Bindi. E poi l'abbiamo fatta insieme a Baglioni e ad Anima Mia. Ad Anima Mia da Fabio Fazio, che salutiamo. Noi abbiamo dato un titolo a questa esibizione, come si intitola questa esibizione? Oltre l'amore. Oltre l'amore, numero uno, Enrica D'Antoni raccomandata da Orietta Berti. Prego maestro! Io canto il mio amore per te, questa notte di bella poesia. La mia voce sarà, una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai, perché da me sei andato via. Per me è giusto, tutto quello che fai. Se io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima quant'abbiano lo sai. Se io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché... Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché... Io ti amo... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E troverai un po' di me In un concerto dedicato a te Ovunque sei Dove sarai? Mi troverai vicino a te In un concerto dedicato a te I amici italiani che ci trovano là sono stata domenica scorsa E mi hanno detto di salutarti tanto Perché vedono sempre... Salutiamo gli amici canadesi a Toronto E tutti quelli che ci seguono Attraverso la RAI internazionale Va bene? Grazie Che succede? Che succede? Ecco Questo è il mio bigliettino da visita Se ha bisogno dell'avvocato Scusate cosa sta facendo? Ma che sta facendo? Tutti avranno bisogno di un avvocato difensore Allora stavo dando un po' di pubblicità Il mio biglietto da visita Ho capito? Ma non è corretto Perché l'avvocato giurato non ce l'ha i bigliettini Ce l'ha l'avvocato giurato? No, sono disarmato Eh beh, non ce l'ha i bigliettini 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 Ma vai da sedere? No, no, no